Incontro in Arcivescovado ad Ascireale per ricordare il terzo anniversario della tragica morte del camigliano fratello Leonardo Grasso, responsabile della tenda San Camillo di Riposto. Presto inizieranno i lavori di ristrutturazione, inoltre grazie a una cooperativa solidare si vuole creare sempre nella tenda per dare possibilità lavorativa ai fratelli che vengono accolti e assistiti grazie anche ai terreni adiacenti alla tenda dove si inizierà un allevamento di animali di piccola taglia, tutto questo per dare segnali di speranza. Volentieri abbiamo cercato e ottenuto grazie al cielo questo contributo ulteriore perché dopo l'incidente tutto si era fermato poiché è uno dei punti cruciali ed essenziali sia per la cura delle persone ammalate di AIDS ma anche per poter aggregare altri tipi di persone indigenti i padri camigliano hanno rilanciato proprio per allargare anche la possibilità di nuove accoglienze. Questo ci è sembrato dunque utile e opportuno, non solo appoggiarlo ma contribuire in diversi modi affinché l'opera si possa realizzare e al più presto venga ripristinato come luogo dove tante persone in difficoltà vengono accolte, assistite, accompagnate, direi amate come vero manifestazione dell'amore di Dio.